Il divieto di fecondazione eterologa condiziona il diritto fondamentale all'autodeterminazione della coppia, il principio di equaglianza e raccoppia e il diritto alla salute. Tutti i principi tutelati dalla Costituzione lo hanno stabilito i giudici del Tribunale Civile di Milano in un'ordinanza depositata il 29 marzo scorso dove chiedono alla consulta di pronunciarsi sulla legge 40. I magistrati ambrosiani hanno accolto il ricorso di una coppia affinché si è resa giustizia in modo da poter provare ad avere un figlio in Italia non potendosi permettere economicamente di recarsi all'estero, spiega la costituzionalista Marilisa D'Amico, tra i difensori della coppia. Il Collegio di Difesa ha ottenuto dal Tribunale di Milano l'ordinanza che rinvia la consulta a legge 40 sul divieto all'inseminazione eterologa, cioè all'uso di seme o ovuli da donatori esterni alla coppia, divieto che condiziona la possibilità delle coppie eterosessuali sterili o infertili di poter concorrere liberamente alla realizzazione della vita familiare. L'ordinanza di remissione alla consulta dei giudici milanesi nasce dal ricorso della coppia sterile per azzospermia del marito. L'azione giudiziaria era iniziata nel 2010.